Dottorio è la sua professore, dottorio hai l'urgenza? come hai uscito insieme a tua visita? spero che li faccio per la 1 o la 2 ascolta un picanero io non ho mai messo lecce della tina è stata un'urgenza dopo che per settimane non ho mai risposto al telefono da c'è la legatura è tra noi esplicami un picanero la momento sono in tutta la ragazza non c'è la bani io stico che non ti piace Da Vittoria, ascolta, no, ascolta, asta è realitate, attunce della cella all'altra parte, io o persona, se gandesti, asta è scrocheri, no, dar, tu trebbe che incinta, incinta, cioè spunimi un pic, io, cioè, Petro che l'ha inceputo intre noi, ha fostato, avvocato, premideuro, Petro Vasile, che era mai bene che stava in carcere, tu dopo hai coscientizzato che ha fostato gresciare, no, sì, Vittoria, ascolta un pic, da a colo, tutto rimane, no? No, 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 no. non ha mai avuto mani, questa è una scrocheria no Vittoria? tu credi che invazzi, questa è una burocchia, Angelecch? no 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 eh, tu, vorrei questa o no? no non vorrei non vorrei una scrocheria no, non vorrei si invazzi della mia Vicky, ascolta, ci mi stimoliamo mai molto della mia non è il corpo il tuo, io non sono un porco, lì ci ho dato un po' con i fatti la mia sozia, 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 la mia sozia e dopo si è terminato se fai però, io continuo, sono mai stimolato, quando ho visto che ho un colo e avrà stato giusto io non sono mai tutto umanitario, io non sono bogato, sono normale però, quando ho visto che questa sozia è la mia io ho detto che io ho visto, sì, mi separi tu, ma l'hai spostata molte ore che non posso essere falsa però io sono mai molto stimolato che in le mie lepsi dei copil, io avrei essere in base ma tu non mi lasci che ti invalzi tu sei disposto che ti invalzi della mia io non è che ti impugno, io penso che c'è mamma che ti spugna non è così, non è così, non è così, non è così ma hai molta esperienza ma non mi ascolti, tu sei disposto se facci così? no ma sei convinto o no? no ma non ti spugni con sofferenza no ma che mi spiega? no ah, non sei lecce, non hai incredere in mine? che ha citati? io non ho creduto ah, incredere in cascità mi prego, non mi ha citato ma ti ha perduto in dentro l'ospital no allo no che te tremiti sms, ok Vittoria sì, papà ehi ehi fai stai alla calda con tre set e otto del fiebre da che ha dovratto che mi spusse era mai bene che stavi a casa alla calda io venivo con la pizza io ti aducevo a ciò che va attunce ti raccita mai molto ok vedi tu spero che hai capo ok? ciao papà ciao ciao